Ben ritrovati da Simone Nardone a un nuovo appuntamento con il Giornale Radio. Grave incidente stradale è stato registrato nella serata di martedì a Minturno. Un giovane che viaggiava su una moto sarebbe rimasto gravemente ferito tanto da dover essere elitrasportato in un nosocomio di Roma. Ancora al vaglio delle forze di polizia la dinamica dell'incidente preso in cura dai sanitari del 118. Il giovane centauro è stato successivamente trasferito presso il San Camillo di Roma. Un'operazione importante, quella condotta dai Ross dei Carabinieri, che ha portato nei giorni scorsi a sgominare un gruppo antisemite inneggiante al nazismo e al fascismo. Tra le persone coinvolte in tutta Italia anche un uomo di 60 anni incensurato di Terracina. All'uomo sarebbero stati sequestrati computer e telefoni cellulari per cercare eventuali collegamenti con altre persone del territorio al momento sconosciute all'indagine e anche per capire il collegamento dello stesso uomo con il gruppo che si faceva chiamare Ordine Ario Romano. A casa dell'uomo di 60 anni, infatti, a differenza delle altre persone indagate, non sarebbero stati trovati oggetti propagandistici. Nel corso del primo pomeriggio di ieri a Scauri di Minturno, i carabinieri hanno denunciato a piede libero per il reato di tentato furto aggravato in concorso un giovane di 20 anni del posto per essere stato identificato come il possibile autore del tentato furto a danno di un distributore automatico all'esterno di un esercizio commerciale del centro. Con lui c'era un'altra persona che al momento, fanno sapere i carabinieri, rimane sconosciuta. Gli ambulanti sono stati a Roma in piazza San Pietro dal Papa domenica scorsa per chiedere attenzioni sulle riaperture dei grandi appuntamenti religiosi che fanno parte della tradizione storica del Paese. Ne abbiamo parlato con il segretario nazionale Diana OGL, Marrico Rosato. Ascoltiamo le sue parole. È stata una scelta motivata dall'esigenza di sensibilizzare il mondo della Chiesa attraverso l'autorevolezza del Papa per la necessità che si riaprano al più presto i grandi momenti di feste religiose con i quali si celebrano i Santi, le Madonne in tutta l'Italia. È un patrimonio della nostra cultura, della nostra identità. Covid-19. Sono solo dieci nuovi casi riscontrati in provincia di Latina al coronavirus e inseriti nel bollettino dell'ASL di ieri, dove fortunatamente non è stato riscontrato alcun nuovo decesso. Le dieci nuovi casi in provincia, due sono collegati al sud pontino e riguardano i territori di Fondi e Terracina. Il nuovo bollettino Covid spiega anche che sono state vaccinate nelle ultime 24 ore quasi 4.800 persone. Un accordo tra le province di Latina e Caserta per cercare di risolvere l'annoso problema del ponte sul fiume Garigliano di collegamento tra la strada provinciale Maiano e la strada provinciale Lauro-Casterforte-Minturno. È arrivata infatti nelle scorse ore la sottoscrizione del documento firmato dal presidente di Latina Carlo Medici e dal collega di Caserta Giorgio Magliocca. L'accordo in questione prevede una serie di attività e procedimenti per mettere in sicurezza il ponte e continuarne la manutenzione. Questa era la nostra ultima news, prima di salutarci vi ricordiamo che sul nostro sito web radiocivitemlu.it trovate tante altre notizie. Un saluto da Simone Nardone, a risentirci alla prossima edizione del giornale radio locale.